Dai che ti ammazzo 4, 4 ne ho uccisi Sulla mia sinistra perché ragazzi è un po' contorta questa cosa qui La vostra a destra è la mia sinistra Ho qua il mio computer e qua la Playstation con l'altro schermo Per chi volesse sapere che webcam ho comprato Ho preso la Logitech C930E Perché questa qui funziona sul Mac Le altre non andavano E oggi come vedete questo qui è il mio bel personaggio Avevo chiesto nel video scorso se volevate che andassi a fare Un Road to Master Division come in Black Ops 2 E moltissimi mi hanno detto di sì Quindi andiamo subito a fare questa partita classificata Mettiamoci subito le cuffie E spero di non partire Oh ecco qua che sono bello vattato non sento più nulla Spero di iniziare con una partita molto molto buona Qua disattiviamo subito le voci Anzi aspettiamo prima che inizia il gameplay Quindi ragazzi lasciate subito un like a questo epico video Finalmente qua con la facecam Un like, un commento Ditemi cosa dovrei magari migliorare qua con la facecam Possiamo dire con questa webcam qui Cosa appunto I pro e i contro che ci sono Ditemi se mi sentite bene Io comunque poi guarderò tutto nel post produzione eccetera Solar cerca e distruggi Ottimo Io vi dico subito ragazzi che non ho ancora mai fatto una partita In cerca e distruggi su questo nuovo Call of Duty Quindi sarà molto molto interessante vedere come andrà a finire Sicuramente ragazzi la facecam è un più perché Ad esempio come in quei tempi morti Io non ho neanche una classe per cercare di distruggi Boh utilizziamo questa In quei tempi morti potete vedermi e quindi è ottimo Allora AIB Allora Andiamo subito qua sopra Allora Dobbiamo difendere Loro devono piazzare Quindi bisogna stare fermi immobili Diventiamo invisibili E aspettiamo ragazzi Chi dice Beastars è un camperone Qui e lì Non ha mai visto i professionisti Come giocano ragazzi Perché nei tornei da Un milione di dollari E via dicendo Tutti stanno fermi immobili Professionisti Via Eccolo là E la prima kill di Beastars in cerca di distruggi Eccolo qua Primo sangue Ormai sanno dove sono No ci stava la tripla lì Cavolo Una bella tripletta lì Avevo finito le munizioni Però abbiamo vinto ragazzi Devo sempre ricordarmi di guardare qua In questa cavolo di webcam Vediamo un po' Per fortuna che mi ha seguito Il mio compagno di squadra Si ci vorrebbe bene il silenziatore Anzi magari adesso Metto l'arma Con il silenziatore Aspettate Mettiamo Questa va là Che dobbiamo andare a distruggere Chi è che ha preso la bomba? Lui Ottimo Vai andiamo di qua Non usate gli esoscheletri Non usate nulla Se no sulla minimappa Vi scoprono Vai strisciamo come i serpenti Vai su Vai libero Grande prova Vai vai Piazza sua Piazza sua Uh eliminazione Vai vai Piazza 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 Promozione Grado 28 Raga Bomba piazza Bomba piazzata Vai vai Aspettiamo Di sicuro qua deve venire qualcuno Uh E Bistard lo secca Attenzione ragazzi Showtime 2-0 Qua in teoria Dovremmo essere Guarda qui che roba Qui se sparate alle sbarre I proiettili là Non erano andati a buon fine L'ho scoperto adesso C'era come una forza Non so Invisibile là Che bloccava tutti i colpi Vai Ah ho sbagliato classe In teoria ragazzi Bisognerebbe utilizzare Una classe Per piazzare E una classe Per difendere Io questa volta Vado aggressivo Sperando che non se lo aspettino Come ha fatto a non morire Mi ha seccato lui Guarda Più rosso di così Non si poteva No Questa cosa qui Veramente Questo round ragazzi E' stato buttato Vediamo un po' Come vanno i nostri compagni Successivo Questo qui Guardalo lì Spara spara Questo c'ha dei riflessi Veramente Da topo morto L'unico E' lui Quanti sono gli altri Come si fa a vedere Eh tutti e quattro vivi Sono gli altri Impossibile Vai tre Contro uno Ah noi siamo anche in tre Un in meno siamo ragazzi Vai 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 grandissimo No il cecchino No Siamo un in meno anche Ma dai Me ne sono accorto adesso Perché la gente Deve quittare Perché Come ha fatto a prenderlo Non lo so Vai due a uno La partita Si fa Entusiasmante Però solamente in tre C'è E qua nessuno Entra dentro Grande prova Con l'UAV Quindi questo Va da questa No Cavolo Non sapevo che era così lungo Pensavo che fosse chiuso Io vi volevo mettermi lì Nascosto Nell'angolo Cavolo Che errori ho da pivello Quello da dietro E anche questo round È perso Due a due È un casino Quando si è Con un giocatore in meno Vai Non demordiamo Due a due Questo round Me lo voglio portare a casa Ragazzi Cambio squadre Vai Vai Veloci Quanto tempo Ci mettono Vai È che non so Neanche bene Questa mappa Non ci ho giocato Moltissimo C'è quello lì Che cecchina Da lontano Quanti Ancora tutti vivi L'ultimo in vivo Vediamo un po' Se sento dei passi Bomba piazzata No Subì Cavolo Eh Ciao Buonanotte No Niente da fare Ragazzi Qua si è anche Bloccato tutto Eh Sto cecchino È veramente Forte L'ho provato Anch'io ragazzi Ed è veramente Uno spettacolo 3 a 2 Cosa faccio Eh apro nemici Eccetera Vai vado Per i cavoli miei Da dove Oh io ragazzi Cioè Non ho Neanche sentito L'esoscheletro Che dava Il doppio colpo Cioè Era partita così bene Primo round Secondo round E poi basta Usiamo questa Perché ancora ragazzi Come avete visto Sono a livello Bo 28 29 30 Non lo so Non ho ancora sbloccato Mirini E cose varie Tutti qua col cecco Iniziamo bene Road to Non so neanche Come intitolarlo Ragazzi Master division Non so Tutti con questo Cecchino Mega potente Vai Inter mezzo Tanto si arriva a 6 Cerca e distruggi È tutto Fattibile qua Oh Qui ho l'esoscheletro Ecco Non ho neanche una classe Per cerca e distruggi È quello il bello Masse Uno può andare Anche là sopra Ragazzi Uuuuh Eliminazione No usare l'esoscheletro Cavolo Vai Che Bistarda Fa Dai Dai Che ti ammazzo Quattro Quattro Mi ho uccisi E andiamo Cerca e distruggi È una delle mie modalità Anche Che mi piacciono Fortuna che avevo Questo esoscheletro Qui Con lo scudo Uff Il primo Full Ragazzi Che faccio Quattro Mi ho uccisi Tutti io Bistard Porta la squadra La vittoria Non si sa Ragazzi Era solamente Un round Vai E siamo rimasti In due In due Ragazzi Cioè Dai Ma faccio Una partita Così bella E la gente Deve quittare Che lag è successo La ragazzi Avete sentito Anche voi No Da dove Da dove Era la Ma dai Ma se ero dietro al muro Come cavolo ha fatto A beccarmi Vai Uno contro due Fallo te Io li volevo fare La doppia Non utilizzare L'esoscheletro Sennò sulla minimappa Vieni rilevato Cavolo Appena detto Appena detto Un altro po' Io lo userei L'esoscheletro Se mi cerchi E distruggi Vai 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 Dai Che se vinciamo Questa qui Quattro contro due È epica Vai Spara 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 Vai Quattro contro quattro Lì Quattro pari E siamo in due Ragazzi In due Questa qui rimane Negli annali Veramente Se si vince Questa partita Adesso dovremmo difendere Quattro Quattro La vedo molto difficile Dai In tre Uh Se ne è aggiunto uno Ragazzi In tre Contro quattro Vai 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 Questa volta Rush in mezzo Ragazzi Magari non se lo aspettano Sì Io poi Ho i passi Di un facocero Ma come da solo In tre Tutti e quattro Morti Io questo Non l'ho neanche sentito Avrà avuto silenzio Di tomba Qualcosa Come si fa in trenta secondi A morire Bisogna difendere Quello era Logico Che era lì Mi ha visto Mamma mia Che squadra Di nabbi Oh che ho Ogni volta Capito con questi Basta Ultimo round Vediamo Se riusciamo a fare Un cinque Contro cinque Cioè Io non ho parole Adesso dobbiamo piazzare Io direi di andare su A raga Andiamo su Andiamo su Poi senza microfoni Però mi hanno seguito Questa qui è la pistola Che con un colpo Sciotta Buonanotte Il vulcan Ci hanno Io sono anche stato Un pollo Perché potevo Nascondermi Ma con un raggio laser Così Mi sono sacrificato Per la squadra Cosa fai Con questa pistola Quanti sono Due contro due Vai Forse Si riesce a portare a casa Io sono stato un pollo A morire così Veramente Vai Al miscelatore Vai vai Proteggi qui Proteggi Non Guarda sopra 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 Sulla destra L'ho visto io Eccolo dietro No Spara Che riflessi Ci hanno Questi Sembra che vedono le cose Dopo mezz'ora Va bene ragazzi La partita è stata persa Io vi ringrazio Lasciate tantissimi like Per questo video epico Per il mio full Commentate Lasciate un like Condividete il video Iscrivetevi al canale Alla pagina facebook Vediamo un po' 6 contro 4 Voglio vedere un attimo Quante uccisioni ho fatto Me lo fanno vedere O no? Oh eccoci qua 10 e 8 Quello ha fatto 0-2 Beh non male Penso 10-8 Primissima partita Ragazzi In cerchi e distruggi Quindi qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti